Nel 1993 il concorso di bellezza Miss Italia vede trionfare Arianna David, nata a Roma il 3 giugno 1973. Dopo il liceo artistico, Arianna decide di andare alla scoperta del mondo dello spettacolo, per il quale ha provato sempre molta attrazione. Nel 1991 riesce ad ottenere una piccola parte nella Fiction Europe Connection, andata in onda su Rai 2. L'anno seguente trova spazio come subretti in due trasmissioni televisive, Il Grande Gioco dell'Oca e Acqua Calda. Nel 1993, con la partecipazione a Miss Italia, il suo sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo si realizza in modo grandioso, vincendo il titolo all'età di 20 anni. La più bella d'Italia fa il suo esordio in cera due volte, al fianco di Pippo Baudo. Nel 1994 si classifica a quarta al concorso di Miss Universo. Nel 1997 Antonio Ricci la vuole nella trasmissione Statissima Sprint. Successivamente Arianna decide di abbandonare temporaneamente la televisione per concentrarsi nello studio delle lingue straniere. Inoltre studia dizione e recitazione. Grazie a questo percorso di formazione viene ingaggiata nella turne teatrale della Presidentessa, con la regia di Fernando Balestra. Arianna David ritorna in televisione prendendo parte alla fiction Le ragazze di Miss Italia, e poi entrando a far parte del cast della serie TV A casa di Anna, al fianco di Virna Lisi. Nel 2005 ottiene la possibilità di far crescere ulteriormente la sua popolarità, partecipando all'Isola dei Famosi, dove mette in mostra la sua tenacia ed il carattere forte e deciso, scatenando spesso diverse polemiche e colpi di scena, che la renderanno uno dei concorrenti più rilevanti della reality. Nel 2007 è uno dei membri della giuria tecnica di Miss Italia. La rivedremo partecipare ancora al programma L'Isola dei Famosi nel 2012. Oggi fa la testimonial per alcuni brand di abbigliamento, coltiva una forte passione per la palestra e si dedica alla famiglia. Ha un compagno con il quale ha avuto due figli che si chiamano Tommaso e Gregorio.